Siamo a Gavardo, all'azienda agricola Montacoli Rosa e abbiamo Alberto Scalfi, il titolare. Come è nata questa azienda? Perché c'è una tradizione lunga. Sì, è una tradizione molto lunga. Il mio povero padre, tanti anni fa, era un cordato dal Bruni, nel senso del Bruni Conta, il quadro di Limone. Quando ha cominciato ad avere l'età si è cominciato ad acquistare dei terreni, che prima ha messo dei vigneti e poi da lì siamo arrivati noi come famiglia, poi lui è scomparso e abbiamo cominciato col fratello anche a allargare il discorso degli uliveti. La mamma viene da Montemaderno, perciò avevamo già degli uliveti in possesso e abbiamo cercato di allargarsi sul parco Altogarda, dove con un parco così bello, un lago così bello, incontaminato, perché noi abbiamo dei terreni incontaminati, versante il lago di Garda, sopra Toscolano, a Villa Vetro di Garniano e a Gaino, praticamente abbiamo più di 980 piante. E in più la coltivazione biologica è certificata? Dieci anni fa è stato quando il fratello ha deciso di cambiare lavoro e a quel momento lì ho scelto anch'io di cambiare completamente cosa era il discorso di una volta, di produrre, di ritornare agli antipodi nel senso che di coltivare non più con erbicidi, non più con pesticidi, ma al naturale come si facevano una volta. E avete avuto grandi successi e grandi riconoscimenti e adesso il più è che commercialmente ci sia anche il riscontro perché è sempre difficile, perché coltivare bio è molto più costoso, molto più difficile, molto più rischioso, però la qualità è sicuramente superiore. Che riconoscimenti avete avuto? Il riconoscimento è stato tre anni fa, quando il frantoio del Garda, l'olio crudo del Garda, mi ha detto che con un prodotto quel genere sicuramente sei da concorso e ho mandato via un campione così da scherzo, proprio nel senso ecco, e difatti è stato riconosciuto come uno dei migliori biologici internazionali. L'anno scorso purtroppo non c'è stata nessuna raccolta di olive perché varie cose, e quest'anno invece ho cercato di mandare via i due campioni perché negli anni ho selezionato anche due tipi di olio, Casaliva, Leccino, Monocultivar e ho mandato via tutti i due campioni e quest'anno è stata una grande soddisfazione per me e per la mia famiglia ricevere questo premio di Estra Golden. In famiglia lavora solo lei o anche i suoi fratelli? No, in famiglia c'è mia moglie e poi c'ho i fratelli che mi danno una mano sabato e domenica perché loro conducono altre attività. Quindi coltiva anche due Monocultivar particolari, Casaliva che è proprio la Monocultivar del Garda e Leccino. Che differenza c'è fra questi due oli? Allora, Leccino è stata una scommessa tanti anni fa perché qua sul Garda è sempre stato distrattato come olio, invece è un olio molto molto importante e questo viene raccolto molto velocemente, per essere un buon Leccino deve essere raccolto molto prima a confronto a Casaliva, per avere i profumi e i sapori che condizionano questo olio. Questo qua è un olio molto leggero, leggero nel senso che... Non va a contrastare i sapori? Non va a contrastare i sapori e non copre i sapori delle pietanze, perciò sarebbe ottimo per il pesce, per il riso, tra virgolette, perché non copre assolutamente i sapori. Altro che il Casaliva invece che è un olio, scusi, è un olio molto molto forte, molto piccante, ma ha lo stesso che è molto aggressivo, come tutti gli oli del Garda, ma specialmente questi del Parco Alto Garda, perché io mi ritengo di essere in una zona dove il Parco Alto Garda è uno dei massimi oli che ci possono essere in giro. Non c'è paragone con qualsiasi altro olio, ma non è che lo dico io, lo dicono quelli che, praticamente, professori, perché questo, perché ne produciamo molto meno, sono tutti terrazzamenti, perciò molto soleggiato e che il Casaliva, tra virgolette, ha dei sapori di retrogusto, di carciofato e di pomodoro secco. Confronto al Leccino, che è un erbaceo, è più erbaceo come sapori e sentori. Non solo olio, non solo olio, ma anche vino. Il vino invece è nella zona Gavardo, nella zona Valtenesi. Nella zona Gavardo, zona Valtenesi, sono due ettari 88, in cui è diviso su Trebbiano, Riesling, Chardonnay, e Marzemino e Rosso Merlot. Sempre vini biologici? Sempre vini biologici, tutto biologico. Addirittura il Marzemino è un vitigno talmente vecchio che ha dei profumi e dei sapori molto interessanti, ma si cominciano a sentire dopo tre, quattro anni di stagionatura, per avere un qualcosa di buono. Il nome è in dialetto? Il nome, tra virgolette, una volta si chiamava Berzamì, non Marzemino, Berzamì del dialetto, e sull'etichetta c'è scritto Berzamì come era una volta. Anche ai miei vini gli ho dato il nome del dialetto come si chiamavano una volta. Quali sono gli altri? Gli altri sono il Bianco, che è il Garda Classico, Riesling, Trebbiano o Chardonnay, che l'ho chiamato Bolina, dove è la località, gli ho dato il dialetto anche lì. E i tre bianchi sono tre bianchi vinificati separatamente, ma poi nel momento del confezionamento vengono uniti dopo, vengono uniti. Perciò c'è una parte di Riesling, c'è una parte di Trebbiano e c'è una parte di Chardonnay. In Alto Garda ci sono anche i capperi? È un prodotto molto disfrattato perché ormai non c'è più nessuno che li raccoglie, perché ormai è faticoso e poi ha un costo, come tutte le cose hanno dei costi. Ma però questo cappero che coltivo io sono nelle limonaie, su Garniano, in cui vanno a raccogliere settimanalmente, e poi lo metto sotto sale e lo metto sotto l'olio, olio di oliva biologico. Perciò è un prodotto eccezionale, che da nessuna parte non c'è, non perché lo faccio io, ma perché è una ricetta vecchia. Adesso mi si tocca assaggiare. Ah beh, ci mancherebbe. Se uno vuole acquistare i vostri prodotti, a parte venire in azienda, dove li può trovare? Solo in azienda. Solo in azienda. Ciao! Grazie a tutti.